benvenuti ragazzi alla nona puntata esmoist place dedicata a stellaris c'eravano lasciati con una corsa agli armamenti per tentare di difenderci da non esattamente simpatici vicini proseguiamo e stavamo anche tentando di trovare nuovi spazi di esplorazione e di espansione visto che ormai lo spazio vitale nostro è abbastanza limitato siamo messi bene come economia decisamente abbiamo una marea di influence e così via quindi non ci possiamo esattamente lamentare dove 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 eravamo rimasti beh come tecnologia siamo abbastanza avanti tentiamo di arrivare al livello di spazioporto per costruire le cruiser e stiamo aumentando anche gli special e convert computers che servono per migliorare la qualità delle navi e della della tipologia di navi esatto inoltre stiamo anche aumentando le armature questo darà un bel colpo in avanti alla nostra potenza di navale abbiamo ancora un bel po di spazio e con l'energia attualmente il nostro uso possiamo possiamo dichiararci abbastanza soddisfatti allora abbiamo un po di unemployment cosa possiamo fare qua mineral silo ma quasi quasi si potremmo decidere di fare un mineral silo tutto è abbastanza un pianeta abbastanza buono per quello di cibo ne abbiamo ancora poi su mazze di tamburo invece andrà sicuramente da fare la però non possiamo ancora costruirla l'equivalente per quanto riguarda l'energia perché con tutta questa energia non c'è assolutamente motivo di avere problemi io però appunto inizierei a mettere land of opportunity attivo di nuovo a mazza di tamburo perché abbiamo bisogno di popolarlo lo più possibile inizio a costruire preventivamente un paio di power plant poi la nostra construction ship ha finito allora bisogna iniziare a mettere un po di research station direi una due mining station research station e poi ci fermiamo anche se andrei a fare anche quella research station perfetto la nostra science ship sta proseguendo ma non abbiamo ancora trovato nessun pianeta abitabile per noi in questa zona della galassia cosa che invece sarebbe molto comodo per andare ad espanderci verso quella direzione nella peggiore dell'ipotesi lo farò su questo arid world da 13 spazi molto scarno ma purtroppo c'è poco da fare oppure tenterò di avere delle tecnologie di colonizzazione magari per il desert world visto che ne abbiamo uno qua piuttosto che per un ocean world anche se sarà dura qua oltretutto sarebbe carino energy credits p5 per cento fisica auto p5 per cento un buon pianeta questo uno oceanico qua questo tomb world direi proprio di no per ora allora sua manita siamo arrivati praticamente ormai al mass stiamo portando avanti l'ultima popolazione che ci può rimanere su sfinferli le cose stanno andando abbastanza bene no abbiamo perfetto un edificio senza senza nessuno e qua invece abbiamo qualcuno che sta migrando non un grosso problema perfetto allora questo aumento ancora un po la velocità sanio ship service system e gli diamo un po di ordini perché abbiamo bisogno di vedere un po meglio la situazione abbiamo terminato per la fisica potremmo aumentare appunto le risorse di service più 15 per cento non sarebbe male i deflector i deflector sono un'arma molto importante direi di andare decisamente ok later gara di chi una sta continua ad andare avanti indietro con gli altri ciascran garantendo la loro indipendenza poi rimangiandosele così via mentre il groknaploran l'administration gli sgreppoli gli sgreppoli stanno diventando veramente grossi e il problema è che sono alleati proprio con i nostri rivali hanno una federazione ah con qualcuno però ah si con ben tre imperi che non conosciamo e uno con con la quindi in questo momento il nostro avanzamento verso quelli di è impossibile invece quando questi qua gli unici materiali che abbiamo incontrato saranno liberi dalla guerra in questo momento stanno combattendo proprio contro i loro vicini potremmo magari fare una federazione con loro in questo momento non è possibile non è possibile farla con nessuno eccoci qui allora tolgo dalla pausa ci spostiamo una popolazione in in crescita anzi una popolazione già cresciuta così iniziamo a raccogliere allora se andassimo a farlo ship designer eccolo qua possiamo iniziare a migliorare qualcosa questo consuma energia quindi vuol dire che abbiamo bisogno di upgradeare i nostri di upgradeare i nostri fusori purtroppo questo significa in questo momento perdere un po' di armatura ma cos'è? ahhh vuol dire che abbiamo incontrato qualcuno? sì c'è uno space ameba da 900 allora perfetto tentiamo di aggirarli io direi che però a questo punto possiamo utilizzare la nostra flotta proprio per andare a liberare lì e continuiamo con lo ship design allora con la corvette abbiamo fatto e anche qua abbiamo bisogno di dare un po' più di energia perfetto poi cosa abbiamo ancora? unemployment? no non già mai non siamo nani invece sì abbiamo bisogno di un unemployment cosa possiamo costruire qua? oh hanno fatto pace hanno fatto pace e hanno vinto deve andare in hierarchy credo di aver capito sì hanno decisamente vinto hanno spezzato i loro nemici li hanno costretti a spezzarsi in in due e hanno guadagnato anche un pianeta formano aggressività decisamente siete i nostri simpatici amiche esatto proviamo a continuare con a vedere cosa possiamo fare research agreement no non lo vogliamo fare per ora information star charts decisamente sì wormhole access potrebbe andare bene a questo punto potrei chiedere quanti minerali abbiamo ancora sì decisamente potrei chiedere ah no non voglio andare nessun tipo di minerale però magari di energia sì vediamo quanto chiedono 61 potrebbe non essere male e glielo facciamo per 30 anni così non è così male beh non è che ci abbiano dato Dio sa cosa a dire il vero erano tutte zone che conoscevamo più o meno già dobbiamo vedere la battaglia perfetto qua c'è anche lo savanna world che prima o poi potremo colonizzare e adesso andato a fare anche la battaglia lì e possiamo finire il service system ah stiamo arrivando con le tecnologie allora aspettiamo così facciamo tutta quanta la pianificazione in un colpo solo qua stiamo decidendo cosa fare io direi che qui per il momento forse la prima cosa migliore da fare è un hydroponic la nostra construction ship ha ancora qualcosa da costruire quindi per ora andiamo a far quello possiamo attaccare indisturbati al momento le nostre esplorazioni qua a nord non hanno dato niente di interessante purtroppo abbiamo perso qualche corvette decisamente decisamente repair oh siamo indietro con la tecnologia allora quanta roba empire leader capacity o for federation direi empire leader capacity eccetera perché siamo messi un po' male un'armatura da due potrebbe non essere male anche questa sì allora è venuto il momento di fare upgrade per lo ship design lo ship design lo largo della pausa ma metto un'ormansfit allora come tutto possiamo mettere del tessuto rigenerante e questo è fatto 6 sì poi mettiamo anche questa research complete datemi un secondo perfetto abbiamo fatto tutti e tre allora a questo punto metterei la service speed più 5 perché abbiamo bisogno di andare il più velocemente possibile sulle corvette non c'è abbastanza spazio secondo me per mettere dei deflitto almeno non troppo però qualcosa di questo tipo potrebbe non essere male poi sulla sport flower magari possiamo mettere una cosa del genere poi sulla destroyer iniziamo a mettere il tessuto rigenerante poi iniziamo a mettere perfetto un po' di un po' di cose metterei un fusore qua e poi ci metterei proprio dei deflettori qui perfetto oltretutto non abbiamo armi migliori per adesso quindi questo sarà ottimo volendo volendo possiamo aumentare questo e possiamo mettere questo fantastico e ora dobbiamo costruire la cruiser che non abbiamo ancora guardiamo se le nostre navi hanno qualcosa da fare nel frattempo perché delle cruiser abbiamo tre tipologie che possiamo costruire non so se le costruiremo tutte e tre ma vale la pena almeno impostarne una oppure due al momento direi di no non abbiamo nient'altro da fare cosa potremmo fare a questo punto per costruire nulla direi però mi pare di ricordare che ci fosse un sistema non so se era su su supra o era su itzvall su itzvall eccoli qua construction ship vai a costruire lo preservation post decisamente abbiamo una marea di energia tant'è che siamo arrivati al cap massimo questo tutto sommato è una una buona notizia mettiamolo qui togliamo dalla pausa e andiamo a fare lo ship design allora artiglieri no voglio torpedo torpedo e broadside gunship broadside quindi questa è abbastanza grossa ed è offensiva due reggi del meeting hall ci mettiamo uno di armatura nei tre nei tre grandi ci mettiamo queste tre cose poi un po' di torpedo un paio di laser un paio di missili e un coil gun medio dietro perfetto siamo a meno 60 il che significa che dobbiamo mettere un paio di questi ne mettere ancora un terzo per mettere poi a questi ne consumano proprio poco quindi forse un terzo un po' eccessivo a quel punto andrei di armatura mi sembra buona la chiamiamo la risottata ai funghi ovviamente si vede che ho fame comunque la risottata beh in questo momento non ne costruirei altre anche perché le abbiamo dato praticamente tutto però inizierei a costruire proprio lo spazio porto che ci serve e poi appunto i simpatici nuovi modelli di cruiser ora non ho idea se possiamo upgradeare ma direi di sì quella che abbiamo già eccola qua la nostra flotta si sta riparando perfetto allora come siamo messi su Sfinferly abbiamo ancora qualcosina da fare sì decisamente possiamo iniziare a costruire un po' di quello io di Sfinferly lo metterei a costruire proprio un minerale anche perché sono quelli che ci serviranno di più e poi ovviamente bisognerà iniziare a mettere un po' di ecco qua un po' di minerali un po' di cibo un po' di scienza non ci possiamo lamentare abbiamo qualcuno che è disoccupato cosa ci fai a fare disoccupato assolutamente abbiamo cibo abbiamo cibo allora non c'è bisogno che tu sia disoccupato innanzitutto ti puoi mettere lì seconda cosa ti puoi mettere a fare un po' di ricerca attenzione ci sono entri Fancy Pack Leti Gratidunio fantastico Leti Gratidunio stop garantiti pensa Kynor Covenant e voi chi cacchio siete oh mio dio qua abbiamo scoperto un altro fantastico spiritualista fanatico cioè siamo circondati qua sembra che ci abbiano droppato una bomba e si sia sfrattagliato tutto qua abbiamo due grossi alleati più con degli alleati aggiuntivi che ancora non conosciamo e due nemici assolutamente due vicini assolutamente antipatici e dei vassalli che sono un dito nel diretano cioè adesso siamo messi veramente bene direi come come possiamo fare a perdere queste partite sarà una passeggiata lasciamo stare allora qui andrei di invece energia mazze di tamburo libererei questo andrei di energie anche per questo e andrei di scienza per questo e scienza anche per questo così iniziamo ad aumentare allora spazio porto eccola qua allora innanzitutto upgradiamo la flotta qua ci vorranno un po' e poi voglio mettere quante queste valgono quattro ognuna pure quello con il fantastico due tre quattro per ora quattro continuano ad andare avanti e indietro avanti e indietro comunque stanno facendo veramente un'unione bastarda questi questo è superiore questo è così così c'è anche cordiali questo è equivalente però sono inferiori questi sono superiori e ti immaginavo qua bisognerà vedere se riusciremo finalmente a a formare un defensive pack per adesso di continuo perché hanno neutral altitude bisogna tentare di cambiare quello wither consolidated worlds proprio questi no che non sono questi li hanno settati come loro rivari quindi abbiamo i beta cieli anzi scusate i due wither che si sono messi uno contro l'altro vedo bene questi e questi si sono messi uno contro l'altro questi cosa sono anche questi sono materialisti forno 29 meno perché di base meno 50 l'opinione meno 2 più 45 siamo troppo distanti fantastico qua un pianeta che sia decente manco a piangere manco a piangere per ora c'è questo savanna world a 16 che è sicuramente buono però non possiamo ancora colonizzarlo abbiamo una ricerca completata abbiamo più leader questo molto buono possiamo aumentare eventualmente la naval capacity oppure possiamo togliere i tie blockers monthly influence più uno non sarebbe male xenozu può produrre happiness ma non è il nostro talone da kill è la naval capacity è il nostro talone da kill in questo momento dobbiamo aumentarla allora perfetto purtroppo anche questa volta siamo andati solo a rafforzamento però almeno siamo riusciti a fare le crew le crew ship e stiamo aumentando decisamente la portata della nostra flotta questo ci permetterà di forse superare i nostri i nostri nemici forse io questa parte questi sistemi li voglio sono esattamente quel che mi serve e questo è esattamente la red world che mi serve 14 spazi è piccolo ma mi dà un'apertura verso qualcosa che mi interessa potremmo settarlo come rivale forse non è una brillante idea considerando che hanno un po' tanti un po' tanti amici sono infederati con due con tre di cui due sono miei simpatici vicini non so hanno solo qualche problema con qualcuno qua e fine che sono fanatici materialisti individualisti come noi vedremo come andrà a finire magari ecco come ultimo atto di questa volta potrei mandare una richiesta di vendiamo di energia decisamente una richiesta di trade questi non ne vogliono sapere ne vendiamo qualche minerale si decisamente avrebbero un po' fame di minerale giusto un pochino e almeno ci scambiamo le star charts ok 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 un po' di cose insomma abbiamo trovato degli alieni qua o però col cuoricione stiamo scherzando chi sono questi xenofili e collettivisti potremmo anche andarci d'accordo poi questi invece sono materialisti fanatici pacifisti e sono tutto sommato non così distanti da noi abbiamo aperto un bel pezzo di mappa in questo modo poi c'è questi qua ci sono gli stessi no non sono gli stessi sono fanatici xenofili e collettivisti mamma mia è federato pure con gli orassian che sono solo una bestia sono sono nettamente superiori guardando questa immagine la prima cosa che voglio farvi vedere prima di andare via è la seguente se andiamo a vedere i contatti e togliamo i primitivi e togliamo gli altri che non c'è ancora i fall empire che non abbiamo ancora incontrati e questa è la seconda cosa che volevo dirvi sostanzialmente abbiamo tre che sono superiori a noi e sono tutti e tre alleati fra di loro e sono tutti e tre vicini e poi abbiamo vari altri non abbiamo incontrato ancora nessun fallen empire ce ne sono credo tre in questa mappa dobbiamo vedere dove saranno una buona giornata ci vediamo alla prossima volta ciao ciao